In scena per la prima volta nel 1831, Norma, capolavoro di Vincenzo Bellini, ispirato al dramma di Luis Alexandre Sumé, libretto di Felice Romani, cavallo di battaglia di Maria Callas, mancava dal San Carlo da alcuni anni. Ci torna nell'allestimento proposto nel 2021 al Teatro Real di Madrid dal regista australiano Justin Way. Il triangolo amoroso, reso esplosivo anche dalle vicende politiche del tempo tra la sacerdotessa druida Norma, il proconsule romano Poglione e Adalgisa, diventa nella versione che ne dà il regista occasione per un'operazione metateatrale di teatro nel teatro, con la sovrapposizione di due epoche diverse raccontate anche attraverso le scene molto suggestive di Charles Edwards e i costumi di Sue Wilmington. Ed ecco che Norma non è solo la figlia del capo dei druidi Oroveso, nell'antica Gallia sottomessa a Roma, ma anche una prima donna che la interpreta a teatro, al tempo in cui l'opera fu composta. Ovazioni a scena aperta per Anna Pirozzi nel ruolo di Norma, uno dei più impervi nella storia della lirica che dà al soprano napoletano occasione per dispiegare tutta la sua energia e potenza vocale. Grande successo anche per il bel timbro e la raffinata interpretazione di Ekaterina Gubanova nelle vesti di Adalgisa. Ma il pubblico ha molto apprezzato anche Freddy De Tommaso e Alexander Zimbaliuk nei ruoli di Poglione e Doroveso e la direzione di Lorenzo Passerini alla guida dell'orchestra del San Carlo, maestro del coro Fabrizio Cassi.